Buonasera, benvenuti al TG7 Basilicata. Quest'oggi è avvenuto un incidente nei pressi della zona industriale di San Nicola di Melfim. Un camion diretto nello stabilimento Stellantis ha perso il carico, causando disagi nella circolazione. L'incidente, con esattezza, è avvenuto a pochi chilometri dall'incrocio per la Bradanica. Fortunatamente non ci sono feriti. Per questa edizione è tutto, ci ritroviamo nelle prossime edizioni. Grazie e arrivederci.